Ciao a tutti, io sono Sofia, Atina, e siamo al terzo anno di Scienze della Formazione nelle Organizzazioni, classe L24. Siamo qui ad una laurea, quindi prossimamente ce la faremo anche noi. Vi consigliamo di partecipare alle lezioni, farvi anche un gruppetto degli amici, che di sicuro vi possono dare una mano. A novembre, a marzo forse ce la facciamo anche noi, in bocca al lupo. In bocca al lupo.